Le vendite su Vinted vanno dichiarate? Grazie alla direttiva DAC7 l'Unione Europea ha l'obiettivo di intercettare privati e imprese che usano le piattaforme digitali per vendere e fornire servizi e che non dichiarano i redditi percepiti. I gestori delle piattaforme digitali sono obbligati a comunicare i redditi percepiti dai venditori o clienti attivi sulle loro piattaforme. Allora dal 1 gennaio 2023 Vinted è obbligata a raccogliere e comunicare i redditi relativi ai venditori che hanno raggiunto un certo guadagno dunque sono obbligati a comunicare i redditi pena blocco delle attività sull'applicazione chi ha concluso 30 o più vendite in un anno civile chi ha guadagnato più di 2000 euro con le vendite in un anno civile e tu lo sapevi? Lascia un commento e facci sapere la tua opinione